Abbiamo aperto il gazebo che sarà presente fino al 10 settembre, un'iniziativa di conseguenza con quelle fatte dal primo agosto ad oggi di sensibilizzazione nei confronti della città. Noi saremo presenti qui tutti i giorni, mattina e pomeriggio, con la presenza di RSU, di lavoratori, per far sì che la città si renda consapevole ancora più di quello che è oggi sul problema della vertenza dell'Aste, sul fatto che dobbiamo far sì che tutta la città si stringa intorno a questa vertenza per arrivare a 4 settembre, il giorno dell'incontro al Ministero Sviluppo Economico con l'azienda, allo sciopolo generale che si darà nei primi giorni di settembre, regionale Umbro, con al centro il problema delle crisi industriali di tutta l'Umbria, con come capo stipide l'avvertenza dell'Aste che rischia, dopo il piano industriale presentato dalla Dissen, che non è un piano industriale ma un piano finanziario, che prevede soltanto l'esubro di più di 600 lavoratori, lo chiusura e lo smantellamento di alcune linee, il rientro di alcune società controllate come il tubificio, SDF, Aspasia all'interno di Aste, quindi lo smantellamento delle società controllate, è un piano che nell'arco degli anni, senza un investimento, prevederà soltanto lo smantellamento dello stabilimento. Noi siamo qui appunto per far sì che la città si stringa intorno all'avvertenza dell'Aste, per far sì che il governo il giorno dell'incontro dia una posizione netta, pesante e di rilievo nei confronti della Dissen Group, per far sì che questo piano venga modificato o cambiato del tutto, per pretendere degli investimenti che possano nell'arco degli anni creare sviluppo e creare il consolidamento di questo stabilimento.